ehi ragazzo abbiamo guardato dappertutto l'unica persona che c'era lì dentro era il no non ha capito l'ho lasciata lì appena 10 minuti fa adesso ragazzo siamo andati lì dentro con un cane poliziotto l'unica cosa che abbiamo trovato è quella là e di giù dove l'avete trovata dove credi che l'abbiamo trovata semplice stato vandalismo incendio doloso è successo di tutto qui dentro ragazzo ne sai niente tu senta io non so proprio niente di questa storia ok insomma è lei il poliziotto perché non la cerca avanti descrivimela si è alta 1 65 capelli scuri tagliati corti aveva una giacca di jeans è tutto qui quello che ha intenzione di fare di scrivere insomma perché non fate qualcosa eh benissimo farò di meglio ti porterò a fare un giretto andiamo fantastico che sta facendo mi sta arrestando no andiamo a cercare la tua ragazza come hai detto tu per prima proveremo a casa sua tanto tu sai dov'è no Harry fammi un favore porta la roba giù alla centrale fa un rapporto completo e tieni il caffè in caldo a quanto quale sarà una lunga nottata allora allora Grazie a tutti, voglio!